Buona giornata amici oggi è lunedì 15 novembre 2021 ben trovati in questa rassegna stampa di Fano TV leggeremo insieme le notizie del giorno sfogliando il resto del Carlino e il Corriere Adriatico passando però come sempre dal santo del giorno e dal meteo oggi è San Alberto Magno era un vescovo visse nel XII secolo fu vescovo di Ratisbona e dottore della chiesa fu maestro di San Tommaso d'Aquino fu un modello di vita per tanti sacerdoti e vescovi quindi tanti auguri a coloro che si chiamano Alberto. Il tempo di oggi vediamo che al mattino ci sarà qualche pioggia sulle alte marche e poi tempo asciutto e schiarite altrove dal pomeriggio sera invece nuove piogge in risalita da sud e le temperature sono ancora in calo. Ebbene dopo queste prime notizie vediamo le prime pagine dei giornali lunedì abbiamo qualche notizia ridotta per quanto riguarda la cronaca ma ampie pagine per quanto riguarda lo sport. Sull'arresto del Carlino di Pesaro ospedale sospesi 33 sanitari Novax. La metà sono infermieri ma ci sono anche molti OSS. Nessun medico inadempiente, altri dipendenti sono subiudice. Guardie armate in pronto soccorso da oggi sono H24 per tutelare la sicurezza sia dei pazienti che frequentano questo nuovo ingresso dell'ospedale sia per gli operatori che vi operano dopo quanto è accaduto nei giorni scorsi con le aggressioni nei confronti di medici e infermieri. Furto all'iper denunciate madre e figlia prima rubano e poi cercano di sanare la situazione pagando ma la denuncia rimane. E la fotonotizia più importante a piena pagina viene rilanciata la notizia della cessazione dell'attività di Valentino Rossi. Una grande festa, un po' però con il rammarico perché vedere scomparire dalla scena un protagonista così importante, un testimonial così decisivo anche per il nostro territorio, un po' fa piangere il cuore. Vale non finisce qui, si spera almeno per il proseguo del personaggio. Ore 14.40 a Valencia, si chiude un'era. Lui, bello smettere così, quasi quasi lo rifaccio, sempre con la solita ironia ha dichiarato. Tre notizie sintetizzate in questi tre sintetici comunicati. L'incidenza vola, stabili ricoveri per quanto riguarda la lotta al Covid, recordi positivi tra 25 e 59 anni. Presenza enorme Covid, eventi di Natale, proloco in sospeso dateci le direttive. Certo che programmare eventi e manifestazioni quando poi bisogna ribaltare tutto per tutelare la sicurezza è un vero e proprio problema perché si fanno spese in anticipo e poi ci si ritrova con l'annullamento magari degli eventi. Speriamo che non sia così. A Qualagna, Fiera del Tartufo, il premio Mattei, a Vecchiola di Versalis del gruppo Eni. E poi le due notizie di sport a fondo pagina. Vis e tosta, ma non basta. L'Alma vince il derby e la VL. Banchi, andare via, non ci ho mai pensato, ha dichiarato. La prima pagina sul Corriere Adriatico. Si parla di lavori pubblici, cantieri, pressing sul comune. Dal Vecchio Palace al Cavalca Ferrovia, l'amministrazione alla verifica delle opere da lungo attese. L'opposizione chiede conto dei ritardi accumulati fino al giorno d'oggi, ma ci sono anche progetti che sono stati premiati. Approfondiremo questo articolo nelle pagine interne. Guardia Medica, un nuovo appello per i turni scoperti a Pesaro e a San Lorenzo in campo. Il sindaco dell'Onti dice, dà una bella notizia, insomma, finalmente avremo un dottore. I medici di base sono molto preziosi, specialmente nei centri dove non ci sono molte strutture sanitarie a disposizione. A Fano, sulla superstrada, se riappoggia il piano regionale. Un commento positivo per quanto riguarda la strategia regionale sulla grande viabilità anche nella nostra provincia. E poi ospedale, muraglia, via 20 milioni, ma senza il multipiano. Un risparmio che si otterrebbe, collocando il nuovo ospedale a muraglia, rispetto a case bruciate. Vedremo poi come e perché. Allora, restiamo sul Corriere Adriatico. E diamo un'occhiata alla situazione sanitaria. Liste di attesa, le file si riallungano. Ora le urgenze sblocco a gennaio. E soprattutto quello che langue, dopo tutti i provvedimenti che vengono assunti a ragione per contrastare la lotta al Covid, sono gli esami di routine, quelli della prevenzione, molto importanti per scongiurare gli effetti conclamati delle malattie, come quelle oncologiche. Esami oncologici purtroppo indietro. L'assessore regionale Saltamartini vuole rifondare gli asset saltati con la pandemia. E vediamo qui, come sempre, una tabella importante per la situazione delle liste di attesa. Vediamo che il numero più importante è quello in attesa per la ecografia bilaterale della mammella. Sono 1.800 i pazienti che vogliono fare questo esame e purtroppo non lo possono fare subito. Seguiti dai 906 della ecografia dell'addome completo, dai 963 della mammografia bilaterale, dagli 899 della visita oculistica, dagli 877 della visita per lo Torino, la ringoriatria. Abbiamo poi qui diverse situazioni per quanto riguarda il numero delle prenotazioni, sia con la sigla B, che dovrebbe essere effettuata entro dieci giorni, sia per la sigla D, che potrebbe essere fatta entro un mese. Insomma, una situazione ancora difficile da risolvere, specialmente da coloro che hanno bisogno di esami urgenti. Esami al seno, mille richieste fuori tempo. Gli ultimi dati disponibili sul sito ARS sono di agosto. Giriamo ancora pagina e vediamo l'articolo che riguarda i lavori pubblici. Sui tempi, costi e progetti il Comune è alla verifica delle opere più attese. L'opposizione chiede conto dei ritardi che sono stati accumulati fino al giorno d'oggi. Il Vecchio Palace e il Cavalcaferrovia, soprattutto, ma anche cimiteri e viabilità. E i lavori nel mirino all'amministrazione comunale si chiede di rispondere sui tempi, costi e modalità degli interventi. Vecchio Palace, Cavalcaferrovia, Giorgio De Sabata, quello nel Ponte dei Capuccini. Palazzo di Giustizia e area San Decenzo, che deve essere messa in sicurezza. E il cimitero di Novilara, che versa in una grave situazione di degrado. Genica, avanti con i lavori, il torrente messo a regime, Biancani si rivolge ai residenti di Muraglia. In Via Tasso, un intervento fino a primavera. I lavori in Via Tasso, a cavallo tra Loreto e il Centro Storico, sono proceduti fino a quest'estate in contemporanea con la sistemazione degli argini in cemento nel tratto terminale tra Via Tasso e la foce della zona di Levante di Viale Trieste e con gli altri due lotti che riguardano la zona di Muraglia e quella di Santa Veneranda. Una situazione comunque da recuperare. Guardia Medica, ultima chiamata, turni scoperti, cerchiamo dottori. L'area vasta chiede di comunicare la propria disponibilità entro giovedì. Ebbene, i medici di base sono l'ultima spiaggia per rafforzare l'assistenza sanitaria. Medici di base che mancano anche per quanto riguarda il loro servizio. Lo abbiamo visto riportando gli appelli di tanti sindaci, anche dei centri dell'entroterra, dei quartieri della città. Medici di famiglia per coprire i turni di guardia medica tuttora scoperti e a rischio chiusura. La guardia medica è importante perché i medici di base non sono sempre disponibili, specialmente di notte, per risolvere delle situazioni urgenti. E se non c'è un dottore, un'istituzione, un ambulatorio che possa salvare la situazione, tutto diventa ancora più difficile e forse ancora più grave. 20 milioni abbattuti con i risparmi. Si parla ancora della collocazione del nuovo ospedale di Pesaro, se a Muraglia oppure a case bruciate. Una situazione che dovrebbe ormai essere risolta con la scelta di Muraglia. La relazione del gruppo di lavoro paritetico, valutazioni non pesate tra loro, escluse criticità di Muraglia. Insomma, si cerca ancora di capire perché si è scelta Muraglia invece di case bruciate, quali sono i pro, quali sono i contri. Vediamo che tra i pro c'è anche un sensibile risparmio di soldi, di risorse pubbliche, 20 milioni di euro. La stima dei costi del masterplan per Muraglia viene abbattuta da 170 a 150 milioni di euro, via 10 milioni per l'aumento dell'area di sosta raso, riducendo notevolmente i parcheggi in struttura, via 2 milioni degli affitti per il trasferimento temporaneo e via 8 milioni delle nuove costruzioni per il trasferimento definitivo in strutture pubbliche già esistenti di funzioni e reparti presenti negli uffici da demolire. Quindi 20 milioni non sono pochi per quanto riguarda i risparmi. Ed ora siamo in Vallefoglia, più che in Vallefoglia siamo ad Aqualagna, possiamo collocarlo in Vallefoglia, insomma tra Vallefoglia e la Val Metauro. Aqualagna, tartufo, superstar, sipario con migliaia di visitatori. Eventi, nuovi spazi, degustazioni e incontri, premio nazionale Enrico Mattei a Maurizio Vecchiola. Ebbene, Maurizio Vecchiola, un importante imprenditore per le marche, che ha avuto una grande visione dopo la nascita della sua azienda, fondata dalla famiglia nel 1965. L'ingresso in Versali-Seni è un progetto che potrà portare le marche nel mondo. Ecco perché questo imprenditore è stato premiato. Comunque la fiera del tartufo ad Aqualagna si chiude in bellezza, sia dal punto di vista economico che da quello dei visitatori. A Urbino una foto curiosa. Vediamo una volpe. Una volpe fotografata ai collegi universitari. Ebbene, che stavolta non è un animale aggressivo, perché sembra che abbia fatto amicizia con l'uomo, è diventata un po' la beniamina, la mascotte degli studenti. E lo vediamo subito dal titolo. Una volpe ai collegi universitari. Gli studenti hanno una mascotte. È diventato un habitué. Arrivando a qualsiasi ora, le fotografie stanno facendo il giro dei social. Ebbene, un animale che non ha più paura dell'uomo, ma soprattutto perché cerca cibo, insomma, ormai è diventato duro procurarselo in maniera selvaggia. Sulla pagina di Fano abbiamo un'intervista rilasciata dal sindaco Massimo Seri in ordine al quadro generale della viabilità territoriale. Dopo le dichiarazioni dell'assessore alle infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, che ha delineato un po' le scelte della Regione per quanto riguarda la nostra provincia, rifiutando il progetto della Fano Grosseto a solo due corsie, pretendendo che lo Stata ne realizzi quattro, similmente come ha fatto in Toscana e in Umbria, ebbene il sindaco Massimo Seri dà ragione alla Regione. Il sindaco Seri d'accordo anche per il casello di Fano Nord, interquartieri, assemblea pubblica. Ebbene, mentre si è d'accordo sul casello di Fenile e sul Fano Grosseto a quattro corsie, le divergenze però rimangono sulla variante di Gimarra per quanto riguarda la Interquartieri. Però il sindaco va avanti. Ora il progetto è in mano ai tecnici, si sta facendo il preliminare e tra poco ci sarà una nuova assemblea pubblica con i residenti di Gimarra. Un incidente ieri, un incidente che si è verificato in via Metauro, un ragazzo in preda purtroppo ai fumi dell'alcol, ha fatto tutto da solo, ha sbandato con la sua Fiat Multipla, ha sbandato, è sbattuto contro una macchina in sosta, per fortuna all'interno non c'era nessuno, coloro che erano proprietari e non scesi per fare acquisti nella vicina macelleria. Ecco la spinta ricevuta dall'impatto, quest'ultima macchina in sosta è andata a sbattere contro un alberello e in più ha abbattuto un segnale, un palo della segnalettica. Sbronzo al volante, prima di cena si schianta contro un'auto. Scontro in via Metauro, dopo un pericoloso zigzag, un gradarese va all'ospedale. D'Arsena, videocamere attive, ma la burocrazia blocca tutto. Furti sulle barche, la vigilanza ingaggiata dalla Lega Navale non può effettuare i controlli. Questo è un articolo che denuncia una situazione burocratica così insomma inconcepibile. Si sono verificati furti nelle barche ormeggiati nella portocanale di Fano. Furti che potrebbero essere sventati in futuro con la collocazione delle telecamere. Ma ancora non è giunta l'autorizzazione di effettuare le registrazioni. Per cui bisogna che sia sempre un operatore che guardi le telecamere giorno e notte e insomma controlli che non ci sia nessun estraneo che sia proprio dei beni lasciati nelle barche. Purtroppo però l'autorizzazione dalla Prefettura non è ancora giunta e queste telecamere di notte non sono attive. Fireplay, il Panathom premia Asia e Letizia. Riconoscimenti anche per Gaggi, Cocciaro e Tonucci dal sodalizio di Fabrizio Tito. Fireplay è un progetto importante del Panathom Club che premia non solo coloro che si evidenziano negli sport ma anche coloro che fanno dei gesti importanti dal punto di vista sociale e dal punto di vista dell'educazione sportiva. Ceriamo ancora pagina, vediamo e l'addio al Valentino Rossi sulla pagina di Cattolica Gabice. Valentino, un addio da Rockstar, tifosi a Tavuglia, Bolgia, nel box, poche lacrime, tanta festa. Rossi vince anche nei saluti più difficili la sindaca Paolucci. Tutto perfetto. Insomma, un addio che fa piangere il cuore. Però, insomma, anche le cose belle prima o poi devono finire e quindi anche Valentino Rossi appenderà il suo casco al chiodo. Finalmente avremo un medico ma la nostra battaglia va avanti. Lo dichiara il sindaco di San Lorenzo in campo, Davide Dell'Onti, che mostra le firme raccolte. l'annuncio appunto del sindaco forte di questa adesione da parte di tutti i cittadini da domani nell'ambulatorio comunale di Via San Demetrio si avvierà l'attività medica della dottoressa Sonia Curzi. A darne notizia allo stesso sindaco inizialmente ha detto l'orario sarà limitato al martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 con intenzione però di estenderlo dopo una primissima fase di avvio quindi poi anche al mattino. Senigallia l'alice nel paese delle meraviglie casa da mare subito un successo. L'alice non è il noto personaggio delle fiabe ma è il pesce il pesce che appunto è in mare. Ieri mattina c'è stata l'inaugurazione della casa da mare un'istituzione che evidenzia soprattutto un piatto che è un po' del nostro territorio di Senigallia ma anche di tutti gli altri centri della costa ovvero i sardoncini scottadito. C'è stato il sindaco il sindaco che ha appunto dato un tocco istituzionale a questa nuova struttura che potrà evidenziare anche un valore aggiunto della enogastronomia turistica locale. Schianto shock fidanzati all'ospedale l'altra macchina ha invaso la corsia frattura all'esterno per una ragazzina la mamma per i carabinieri l'automobilista era ubriaco un altro incidente che si è verificato a causa di un automobilista ubriaco questa volta a Marotta in via sterpettine e vediamo il resto del Carlino abbiamo già evidenziato la prima pagina vediamo le pagine dedicate a Valentino Rossi lo sberleffo che commuove il mondo lacrime in pista e fuori per l'eroe che è stato molto più di un pilota ritratto di un campione il cui genio non sta nelle sue vittorie strabilianti ma nell'aver fatto palpitare il cuore di milioni di persone ebbene questa osservazione è puntuale ed è giusta Valentino Rossi si ha vinto è stato un grande campione nuovi titoli mondiali sono veramente un palmares da mettere tra gli allori però quello che è riuscito a fare qualcosa di più è il coinvolgimento emotivo del pubblico e tanti tanti sono stati giovani gli adulti che hanno così sono sentiti un po' parte di queste vittorie che Valentino Rossi questo ragazzo prodigio del nostro territorio ha ottenuto a livello mondiale ciao Vale da oggi le moto hanno un sapore diverso tavuglia tutti in piedi per l'addio al doctor alle piste il grazie dei tifosi tra lacrime e nostalgia per 25 anni la domenica ci hai fatto compagnia e queste sono le dichiarazioni di tanti tanti tifosi un articolo sul Carlino che riguarda i provvedimenti assunti nei confronti degli operatori sanitari che non sono stati vaccinati che non hanno voluto il vaccino Novac se sospesi la metà sono infermieri i dati dell'azienda ospedaliera Marche Nord per i dipendenti che non hanno adempiuto all'obbligo intanto altri 800 sono alla terza dose sono questi numeri che emergono all'esito della istruttoria che il servizio di igiene e sanità pubblica dell'Asu ha concluso inviando comunicazioni ai soggetti interessati ai dottori di lavoro agli ordini professionali di appartenenza tra questi 33 sanitari inadempienti dicevamo però non c'è nemmeno un medico insomma però non è una consolazione per quanto riguarda perché sono oltremodo importanti anche gli infermieri natale proloco in attesa quante persone agli eventi un punto interrogativo da candele a candelara fino ai mercatini sparsi un po' in tutta la provincia anche a Fano la proloco ha un ruolo importante nell'organizzazione delle manifestazioni di natale l'ansia degli organizzatori attendiamo di essere convocati dal prefetto Pierpaolo Di Otalevi che è il presidente della proloco di Candelara dice a seconda che entri il 50 o il 75% del pubblico cambia tutto molti nostri spettacoli saltano per ora siamo a un terzo di prenotazioni e c'è anche una dichiarazione di Damiano Bartocetti che è il presidente provinciale delle proloco l'incertezza ci mette in difficoltà ha dichiarato molti hanno fatto investimenti spero che la regione ora ci aiuti ancora sul resto del Carlino la provincia non volerà più alto come prima un titolo che riguarda la dismissione delle quote dell'amministrazione provinciale nella società dell'aeroporto di Fano il Fannum Fortunae l'ente pronto a cedere ad altri la propria compartecipazione alla società aeroportuale fanese Paolini a chiederlo è la Corte dei Conti una scelta obbligata questa visto che le province dopo la riforma non hanno più competenze sul tema dei trasporti per i fratelli d'Italia il Comune preferisce non intervenire per equilibri politici e insomma c'è una dichiarazione che insomma fa un contrappeso a quella della inevitabilità della cessione di queste quote cartoceto ad oppe il festival l'olio sempre più star del mercato si è conclusa l'edizione 2021 della mostra in mercato quest'anno un prodotto molto bio grazie al gran caldo e la mosca si è apparsa raramente poi abbiamo un articolo che riguarda l'inaugurazione dei due appartamenti a Gimarra destinati ai disabili avvenuta nei giorni scorsi nuovi appartamenti per i disabili inaugurati a Gimarra la sistemazione grazie al fondo Cives a gestire il progetto è l'associazione Solimai un'associazione temporanea di scopo che raggruppa diverse entità come la Labirinto la fondazione Noi Domani la cooperativa Gio e l'associazione Onfalos spesa l'iperconad senza pagare subito beccate nei guai madre e figlia sono originarie della Tunisia sono intervenuti i carabinieri loro poi alla fine cercando di risolvere la situazione hanno pagato il conto il conto salato quasi di 204 euro no quasi proprio di 204 euro ma la denuncia rimane Tartufo gran finale col premio Mattei Acqualagna celebra l'illustre figlio e consegna il suo riconoscimento a Maurizio Vecchiola di Versalis diamo un'occhiata anche alle pagine dello sport vediamo sul resto del Carlino che il Viz Pesaro ha perso il confronto con il Modena per 2 a 1 Viz tosta e sfarciata ma fa festa il Modena Cannavò su rigore rimonta lo svantaggio iniziale poi Minesso fa 2 a 1 e i Biancorossi sfiorano il pareggio senza trovare l'acuto decisivo tutti sono convinti che la Viz ha fatto una buona partita una bella partita però il risultato questa volta è andato a favore del Modena ed è la seconda sconfitta dopo quella con il Reggio Banchini li abbiamo messi alle corde il tecnico sottolinea i meriti del gruppo Modena costretto a giocare a 5 siamo stati bravi ma in Italia conta soltanto il risultato e questo è vero invece il risultato questa volta ha arriso al Fano Calcio al Granata Triss dell'Alma ha fatto una veramente una goleada si può dire tre gol per l'Alma sono una goleada Alma Juventus Fano 3 Tolentino 1 l'allenatore in seconda Fiscaletti si prende il derby con le rete di Casolla che ha fatto una doppietta ed è sposito Tolentino va al tappeto insomma Fiscaletti ormai se la gode e Costantino l'allenatore Fiscaletti l'allenatore in seconda che ha preso le redini di questa partita Costantino è pronto a subentrargli il mister Fanese Gongola per la vittoria l'impegno di tutti paga ha dichiarato è in tribuna l'ex tecnico del Messina candidato per sostituirlo insomma ha gioito insieme a tutta l'altra squadra speriamo che sia un nuovo inizio per quanto riguarda la rinascita dei Granata vediamo anche cosa dice il Corriere Adriatico siamo ormai in conclusione una vis povera ma bella niente punti ma il solito pieno di applausi per la squadra di Banchini siamo sempre stati in partita il tecnico della vis analizza lucidamente il match comunque all'altezza della situazione ha dichiarato e poi vediamo ancora il Fano Bagliori di un altro Fano il Fano sembra rinascere i Granata ritrovano la vittoria con Fiscaletti in panchina e sotto gli occhi del nuovo tecnico Costantino Tolentino superato al Mancini grazie a una bella doppietta di Casolla e al sigillo finale di Esposito c'è Costantino in pole l'ex tecnico del Messina ieri al Mancini nessun annuncio ufficiale ma il Fano dovrebbe averlo scelto già insomma per la prossima gara intanto Fiscaletti si gode la vittoria non so ciò che accadrà ma fondamentalmente prendere i tre punti è importante e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 per la consueta rassegna stampa altre notizie della giornata questa sera alle ore 20.30 su il notiziario di Fano TV buona giornata di Fano TV Grazie a tutti.